Caro Ursus, non ti scrivo, ma ti mando un messaggio. So che sei stato portato, diciamo così, in clinica, che ti stanno rifacendo bello e che il frutto di questi lavori sarà che molte persone potranno avere il piacere e l'onore di visitarti e partecipare della tua storia, come è toccato in buona sorte di fare a me. Alcuni dei più bei ricordi di Trieste, per quello che mi riguarda, sono legati a te, al fatto che praticamente entrambe le stagioni della Porta Rossa si siano chiuse per me con le riprese sulle tue più alte staffe. Il regalo che tu hai fatto a me di poter abbracciare con uno sguardo l'intera città e il mare che che la avvolge e la corteggia è senza prezzo. Dall'ultima serata della Porta Rossa 2 alle ultime serate della Porta Rossa 1 tutto ha seguito, diciamo così, il tuo marchio immarcescibile. Ti ho dato dell'immarcescibile, mio caro Ursus. Tienile conto, per quando tornerai a casa e ti toccherà riavermi fra le tue braccia. Che tu mi tratti sempre con la stessa benevolenza. Ecco, questo ti chiedo e spero proprio di tornare prestissimo a Trieste per il teatro o per le riprese del capitolo, diciamo così, terzo della saga di Cagliostro e dei personaggi della Porta Rossa, perché tornare a te significherebbe che abbiamo ricominciato. Noi tutti i lavoratori del settore in questo momento così complicato veramente aspettiamo soltanto questo, di poterlo fare con la massima sicurezza e con l'impegno che solitamente ci mettiamo. Tu, insomma, stacci vicino, come noi a te. Grazie. 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 Grazie.